Che belli, questi sono i famosi aquiloni 3D che si esibiranno a Jesolo, forse ho preso un Ducati 748, che merda di moro? Cioè mi ha portato qua dentro per farmi vedere che tutti hanno il gavone tranne me. Anche lì là si può andare, aspetta, aspetta, aspetta. Ma se l'è strunza, va bene, allora? Vado anche quelli là tutti e due, va bene. Ma che bella targa quella, 001, questo piccolino ma ce l'ha, vedi in nuvola. Vado a vincere anche questa edizione, stai assistendo alla gara europea di Aquiloni che si tiene a Jesolo. Signor Capitano, mi liberi le mani, non ho fatto mai del male a nessuno. Mi sono piegato di fronte a questa vita, io sono, sono prigioniero. E poi non vede, non vede la mia pena, non capisci i miei pensieri. Non vede come viviamo, e non vede che non amiamo. Signor Capitano, dove sono le risposte alle tante lettere spedite? E poi mi dica, mi dica dove siamo. E Giacomo, questa è una moto da stanta, fanno le acrobazie. La vedi, guarda, dal paracarene, poi hanno messo questo sul serbatoio, per andare a stare in piedi nel serbatoio. Ha la doppia pinza nel freno posteriore, perché ha bisogno di più freno nel posteriore. Questo qui, la saponetta per quando impegna che è gratta. E qua per mettere il piede. Ah ah, peggio di un bel agosto. È stata un'impresa a trovare parcheggio. Di Esolo in base. Beh, è un evento molto bello. No, Belliss, ce l'ho anche io sta versione. Mad World. Sto relativamente sopportando bene il discorso della mancanza del camper. Vuoi un po' la moto, l'alessia, per carità tutto quanto. Però mi sento tipo legato. Eh, van life. Anzi, camera è a nona life. Oggi è l'ultimo giorno. So che non è un canale motociclista. Di, saluto a CP, cara prima donna. Sì, di, ciao a tutti. Vi mostro il culo. Ma sì, so che mi seguono comunque anche dei motociclisti. Diciamo che di questa moto, sì, mi ero innamorata. Molto bella. Per carità tutto quello che vuoi. Però non è il mio genere. Le Naked non sono il mio genere. E... Le 60 cavalli non sono il mio genere. Dio. Che bello. Questa fantastica notte, ragazzi. No, no, tu, cazzo, dove è che abito io? Allora, non se ne lo so, non ho trovato mia stanza, qua c'era tutto. Ho trovato che c'era il colore che sembrava, sembrava, che fricatone questa stanza, sembrava rosa e io ho la stanza rossa. Ho detto che non finisco in camera di qualcuno di un altro, ho mezzo a panca una denuncia. Buongiorno. Perché ieri ho quasi avuto gli attacchi di panico, ieri se la situazione era morto, è l'anno che non ne avevo. Wow, 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 che bella vista che ero stamattina. Eh sì, ah no, la barchetta, la macchina che avevo io. Che bello, come ricordi? Ma perché gli hai messo gli specchietti grizi? Perché ruini così? Queste cose bellissime che il genere umano fa. Ah! Il mio cane ti butta giù un palazzo, porca troia. Guardano e sembrano chiedermi chi cerchia. Gli anni d'oro del grande real, gli anni di anni dei sedi l'armal, gli anni delle immense compagnie, gli anni in motorino sempre in due, gli anni di che belli erano i film, gli anni dei Roy Rogers come James, gli anni di qualsiasi cosa fai, gli anni di tranquillo siamo qui noi. Stessa storia, stesso costo, stesso valore. Una coppia che conosco già dalla mia età, come va? Saludano, tu sei qui. Grazie.